Mi sono candidata per dare la possibilità di avere al ponente del Golfo della Spezia un rappresentante in Regione Liguria che non ha mai avuto. La zona che da Fabiano va all'isola Palmaria ha delle criticità che tutti gli spezzini conoscono sia perché abbiamo il mare, sia perché abbiamo un'unica strada, sia perché abbiamo dei boschi che vanno valorizzati. Credo nella lista Massardo ci sia la possibilità di avere delle idee e di lavorare insieme agli altri per avere una Regione verde, una Regione che ritorni ad essere il giardino d'Europa d'inverno. Mi fa piacere di lavorare con persone che ho già conosciuto nella mia attività amministrativa, sono stata assessora a Portovenere per cinque anni, so che è difficile amministrare ma so che insieme con persone competenti si riesce a fare molte cose. Ho deciso di contribuire a questo progetto, a questa idea nuova della lista Massardo che mette al centro il futuro. Non a caso noi guardiamo al 2030, non alle elezioni del 2020 e proviamo ad affrontare tutti i temi più importanti, penso alla sanità, alle infrastrutture, al lavoro, ai giovani, all'istruzione. Anche nella nostra provincia ce n'è molto bisogno. Mi ha convinto questa idea di mettersi a servizio di un progetto dove non ci sono dubbi, dove non ci sono compromessi e dove soprattutto si può portare le nostre idee. Mi ricandido in Regione Liguria dopo cinque anni di opposizione al governo Totti, spesso sul territorio fatta in solitudine, e mi ricandido per combattere le politiche di destra, targate e lega che Totti ha avuto sul nostro territorio. Ma ci vogliamo e mi voglio distinguere anche dalla candidatura di Sansa. Noi siamo per una sinistra riformista, non per una sinistra che segue i grillini e l'antipolitica e su tanti temi le nostre proposte sono vincenti, dal biodigestore di Santo Stefano, alla sanità, alla bretella separata da Santo Stefano, alla difesa e alla tutela dei plessi ospedalieri sul territorio e servizi territoriali. Mi sono candidata perché in questi tre anni ho combattuto per una sanità pubblica come consigliere comunale e per l'ambiente, perché ritengo che in una società che si rispetti la sanità sia il punto fondamentale per salvaguardare i bisognosi, i più deboli. È veramente straziante vedere quello che sta succedendo nella nostra sanità, vedere donne che devono aspettare un anno per poter effettuare una mammografia, un ospedale che sta cadendo a pezzi. Noi avevamo una speranza, la speranza era quella dell'ospedale nuovo, però Totti questo sogno ce l'ha portato via. Ho scelto di candidarmi con la lista Massardo perché considero il programma che ha un programma progressista. Ho trovato dei punti che mi stanno particolarmente a cuore. Il rilancio del terzo settore in particolare, per andare poi a gestire anche i problemi dell'immigrazione. Ho trovato il tema del rilancio del territorio, delle piccole aziende. Ho trovato anche l'altro tema che mi sta particolarmente a cuore, il tema sulla sanità. Credo che dopo l'emergenza Covid sia emerso quali sono le fragilità del sistema Ligure.